Ciao, sono Elena e ho una notizia importante per te. Lo sai che puoi avere acqua pura come quella di sorgente sempre disponibile dal rubinetto di casa tua? Oggi è possibile con Acqua King. Acqua King è il depuratore ad osmosi inversa che ti permette di avere acqua pura e buona come quella che sgorga da una sorgente di alta montagna direttamente dal rubinetto di casa tua. Acqua alcalina, con il giusto pH, ricca di ossigeno, ma soprattutto in una parola semplicemente pura, buona da bere e per cucinare. Ti starai chiedendo chissà quanto costa Acqua King? Starai pensando che forse ora non è il momento giusto? Hai tante spese da affrontare? E se fosse gratis, veramente gratis, GS Italia col pacchetto all inclusive ti regala ora subito Acqua King. Non pensarci due volte, chiama! Perché col pacchetto tutto incluso avrai solo il costo della manutenzione, molto meno di quanto spendi ogni mese per acquistare acqua in bottiglia. E Acqua King è gratis!